immagina di osservare i colori e le sfumature di un territorio unico per fascino e sorprese immagina di ascoltare i suoni del pane fragrante di un vino corposo dello stare insieme alle persone che ami immagina di toccare con mano la morbidezza di un impasto la consistenza di un cioccolato o di scoprire il profumo di un miele artigianale l'aroma inconfondibile di un formaggio dal peggio soprattutto immagina di gustare tutti questi sapori in un'unica imperdibile esperienza stai immaginando i maestri del gusto di torino e provincia veri e propri testimoni del food and wine torinese e dei suoi ingredienti passione sostenibilità collaborazione impegno tradizione amore per il territorio inventiva i maestri del gusto ti aspettano con prodotti unici e storie ricche di fascino se non li conosci puoi trovarli online e sui social prima ancora che nelle strade di torino o nelle nostre valli scopri anche tu i sapori torinesi visita un maestro del gusto e lasciati accompagnare in un viaggio dei sensi l'immaginazione diventa realtà a 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 Grazie a tutti.